Salve a tutti, il mondo degli esami di laboratorio è diventato quasi un master, metto tutti quanti a fare esami a vedere se sugli esami esistono gli asterischi o meno. Ricordiamoci intanto che l'asterisco nasce da una media della popolazione, non è che se uno non ha l'asterisco sta bene, l'asterisco indica semplicemente se sei all'interno di un range di popolazione che mediamente ha questi valori. Uno degli esami più caratteristici di questo errore valutativo è proprio l'esame per esempio della tiroide. Se noi prendiamo la tiroide, la tiroide deve stare come valori corretti tra 0,3 e 0,4 e 1,2 e 1,3, mentre invece l'asterisco compare quando andiamo oltre i 4,5, i 4,8 in alcuni casi, ma non è assolutamente un valore corretto avere 3,9 o 4,2. Il valore corretto è avere 1, 1,2, quando massimo arriviamo a 1,5 è corretto. Tutti i valori superiori a questo dato sono valori che indicano una sofferenza della tiroide e quindi possiamo veramente utilizzare questi valori medi in cui non c'è l'asterisco e in cui non c'è il valore corretto come campreno d'allarme per quella che è la vera medicina preventiva. Cioè se noi ci badiamo soltanto e esclusivamente sui valori del sangue che hanno l'asterisco, noi non facciamo altro che correre dietro le malattie, dobbiamo intervenire prima che avvengano, che si presentino, che avvengano delle situazioni di Italia per cui l'asterisco viene ad essere riportato nell'esame del sangue, perché è quello il valore importante. Mentre hanno stabilito dei valori del sangue, per esempio del colesterolo, in cui la gente praticamente ha l'asterisco ad ogni esame, mettendo in terapia le persone perché l'hanno tenuto eccessivamente basso rispetto alla norma. Quello che conta è capire i valori veri degli esami del sangue, capire effettivamente come intervenire, come correlarli uno con l'altro, perché a volte magari uno è alto, ma se un altro valore è basso alla fine il tutto correla. Quindi non è importante il valore o il numero di asterischi, è importante avere il quadro integrale dei valori, che deve essere un quadro di valori che devono portare ad uno stadio di salute o di malattia non ancora conclamata. Se uno riesce a leggere in modo corretto gli esami del sangue, riesce a fare vera medicina preventiva e veramente riesce a dare un'interpretazione seria di questi valori. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.